Un saluto a tutti gli amici di Video Radio Channel Roma. Siamo in compagnia di Gianluca Floris, iscritto all'Università di Economia, Corso di Economia, Università La Luis di Roma, in particolare nella sede storica che sta in Viale Romania, nel quartiere Parioli. E cominciamo proprio da lì. È un ambiente in cui mi ci rispecchio, mi trovo molto bene, soprattutto come metodo di insegnamento e anche con tutti gli altri ragazzi iscritti, perché essendo un'Università privata ci conosciamo tutti più o meno, sappiamo un po' tutti chi siamo e quindi ci frequentiamo anche al di fuori dell'Università, quindi è un ambiente sicuramente favorevole allo studio che consiglio anche a tutti gli altri studenti che si vogliono iscrivere all'Università. Cosa accade all'interno della Luis? Come vivi le tue giornate? Le mie giornate le vivo la mattina presto a lezione, da lunedì al venerdì, ovviamente le lezioni si dividono tra mattina e pomeriggio. Un tempo si chiamavano attività ricreative, quelle che erano collaterali allo studio, oggi magari questo è un termine desueto, però provo a riproporterlo. Che attività ricreative ci sono al di là dello studio e del tuo percorso di studi? Io faccio parte della squadra sportiva della Luisti Pallavolo, io gioco a pallavolo da ormai quasi dieci anni. Ho superato le selezioni due anni fa e adesso faccio parte del team. Ci alleniamo due o tre volte a settimana e giochiamo il fine settimana. Poi sono un appassionato di musica, ho fatto qualche anno di scuola di canto e suono in pianoforte. Ovviamente essendo un ragazzo di 21 anni mi piace uscire e soprattutto divertirmi e Roma è una città che ha tanto da offrire. Tornando all'interno delle quattro mura, che poi tanto quattro mura non sono, della sede di Viale Romania che contempla e conserva dentro di sé una struttura straordinaria legata anche agli orti, legata anche alle palestre, sia all'interno che all'esterno. Dentro ci sono tante attività, tra cui per esempio la radio. Radio Lewis, che è una delle radio più seguite per quanto riguarda il circuito universitario. La radio che ci accompagna quotidianamente con la musica, praticamente la radio Lewis sta proprio all'interno del mio campus, di Viale Romania, quindi possiamo dedicarci anche alle nostre passioni, oltre che allo studio. Ecco, se dovessi consigliare a qualcuno di frequentare questo mondo così innovativo e nello stesso tempo anche che ricorda una certa classicità, come quella appunto dell'ambiente universitario della Lewis, qual è una cosa che ti piace in maniera particolare, che consiglieresti quindi? Un tratto caratteristico. Penso che il tratto caratteristico della mia università sia il fatto che sia proprio un ambiente familiare, ecco. Con alcuni professori vi è anche un rapporto, non dico di amicizia, però molto molto... Collaborativo. Collaborativo, sì, che va anche al di fuori dell'università, con vari progetti, eccetera. Quindi penso che il punto forte della Lewis sia, vabbè, oltre ai professori molto qualificati, alle attrezature, alle tecnologie ultra avanzate, ai servizi che la nostra università ci offre, appunto penso che sia il fatto che sia come una famiglia, ecco. E allora noi ringraziamo Gianluca Floris qui a Video Radio Channel Roma. Grazie.